Salvini dice spiace che il PD abbia problemi interni che costringono Zingaretti a dimettersi ma noi oggi stiamo lavorando con i ministri Lega per produrre vaccini in Italia, rottamare 65 milioni di cartelle far arrivare rapidamente rimborsi attesi a 3 milioni di partite IVA, dalle parole ai fatti cioè dice Salvini, voi autodistruggetevi, fate il casino, noi stiamo governando con Draghi noi stiamo governando con Draghi cioè, ma questo è un governo che in qualche maniera, siamo al governo Draghi no? è un governo che in qualche maniera rischia di intendersela un po' più facilmente con la destra anche perché i due principali partiti della vecchio governo, cioè 5 Stelle e PD sono in questo momento senza una leadership ma è una cosa un po' diversa, io confermo quello che penso cioè cos'è l'origine dei problemi che avremo con questo governo Draghi, avremo è il fatto che questo governo di quasi tutti non è nato, come altre volte nella storia, dopo una catastrofe è nato dopo un governo che aveva un certo grado di consenso e aveva ottenuto comunque alcuni risultati quindi questo cosa lascia? Lascia nel campo dell'ex maggioranza delle ferite profonde perché è un arretramento, possiamo dire una sconfitta ferite profonde che si vedono, no? si vedono in tutti i componenti del PD e 5 Stelle, cose eccetera e nella destra il revancismo cioè l'idea di affondare il colpo di avere discontinuità e di dimostrare che aveva ragione caro Salvini, rottamar tutte le cartelle io sono per rottamar le cartelle di chi ha avuto dei danni del Covid di chi ha avuto un fallimento chi non può pagare non sono d'accordo caro Draghi e caro Salvini che qui si facciano dei condoni a chi può benissimo pagarle le tasse a chi ha avuto un po' di chi ha avuto